Ciao amici di AdventsItalia, in questo video andremo a vedere la prova di produzione di testi scritti dell'esame CLI4 livello C1, una prova recente della sessione autunnale 2017. Per quanto riguarda il livello di difficoltà è forse tra le più difficili che ci possono essere per il livello C1 della lingua italiana. Vi ricordo che la prova di produzione di testi scritti viene consegnata insieme a quella della comprensione della lettura, in totale avete 2 ore e 45 minuti per svolgere tutto, però fate conto che anche la prova della comprensione della lettura è divisa in diverse parti e un'ora e mezza come minimo vi servirà per svolgere quella, quindi più o meno avrete un'oretta di tempo per svolgere anche la prova di produzione di testi scritti. In questo caso la prova consiste in due parti, nel primo caso avete questo testo che dovete riassumere brevemente, quindi da 150 a 200 parole, però mentre lo riassumete dovete fare attenzione ai punti che vi vengono chiesti. Nel secondo caso invece potete scegliere tra la numero 1 e la numero 2, ed è un saggio un po' più lungo, da 220 a 250 parole. Quindi come si comincia? Vi farò vedere ovviamente la mia risposta. Prima di tutto bisogna leggere questo compito. Non abbiamo il lusso di leggere paragrafo dopo paragrafo come abbiamo visto nella comprensione della lettura, dobbiamo leggerlo tutto e dobbiamo riassumerlo facendo attenzione a tutti i punti che ci indica l'esame. Udine, i cittadini segnalano i problemi, un clic da casa e la strada si aggiusta. Dopo otto mesi di sperimentazione, la soddisfazione è altissima tra i residenti. Il comune ha messo il web al servizio dei cittadini che seguono i lavori fino alla fine. Il messaggio che arriva dai cittadini di Udine è preciso. Sarebbe opportuno rendere più visibile l'attraversamento pedonale posto alla fine di via Leonardo da Vinci. Ed è anche argomentato, essendo distaccato dal semaforo, spesso viene ignorato dalle auto in transito. Propositivo, una soluzione potrebbe essere quella di rendere le strisce a sfondo rosso ruvido che sono più visibili e meno scivolose anche in presenza di pioggia. Detto, anzi, scritto sulla tastiera del PC è fatto. La segnalazione del disservizio partita sul web arriva in tempo reale all'attenzione dell'ufficio competente e viene valutata e approvata. Nel giro di pochi giorni una squadra interviene sul campo e risolve il problema. E tutto dal giorno della segnalazione fino al momento della soluzione viene segnalato sul sito. Il comune di Udine, pioniera in Italia, ha deciso di mettere il web 2.0 a servizio dei cittadini e i risultati sono eccellenti. Dopo otto mesi di sperimentazione, la prima rilevazione sul grado di soddisfazione del servizio ha dato un risultato bulgaro. Il 77% degli abitanti promuove a pieni voti IPART, il sistema informatico che la città friullana ha implementato. Solo il 2% resta attaccato al passato e dice che continuerà a segnalare i problemi al telefono. Quindi si tratta di una piattaforma su internet dove i cittadini friullani possono segnalare i problemi che ci sono in città, quindi i servizi che non funzionano, e l'amministrazione rileva subito questi problemi e cerca di risolverli il più presto possibile. In base allo studio svolto, la maggior parte sembra soddisfatto del servizio. È una piccola rivoluzione copernicana che ha un obiettivo ambizioso, quello di mettere il cittadino al centro e di fargli ruotare intorno a tutti i servizi. Il sindaco della città afferma, dietro questa scelta ci sono ragioni tecniche e politiche. Abbiamo pensato che l'era digitale andasse sfruttata, che i social network potessero aiutarci a dare una risposta al sempre più diffuso bisogno di partecipazione. Quindi il sindaco spiega questa decisione perché l'hanno presa. Individuato il tema, Paolo Coppola, 37 anni, professore di informatica e assessore all'innovazione, si è assunto il compito di trovare delle risposte. Tenere sotto controllo una città è difficile, non basta mandare in giro i nostri vigili sui 350 km di strada. La soluzione è spingere verso un modello collaborativo, sfruttare la conoscenza del territorio che hanno i cittadini come amministrazione, accettare di mettersi in gioco consentendo a tutti di controllare quanto tempo ci mette l'ente pubblico a risolvere i problemi. L'idea viene dal mondo anglosassone ma è un'azienda del sud, la Positron Engineering di Reggio Calabria ad averla sviluppata in Italia. Come spiega il CEO Ingegner Alberto Muritano, la nostra idea è quella della e-participation, di trovare cioè un modo per consentire ai cittadini di partecipare attivamente alla vita del comune. Tutti possono intervenire e segnalare delle criticità, una buca sulla strada, un lampione rotto, le strisce pedonali sbiadite, il frigorifero abbandonato per strada e contemporaneamente tutti possono controllare l'efficienza della pubblica amministrazione perché sul sito si può vedere quanto tempo passa tra la segnalazione e la presa in carico. Il sistema e-part consiste in un software che viene venduto in abbonamento al prezzo e in funzione al numero di abitanti della città che ne fa richiesta, 3.000 euro per 10.000 persone, 20.000 per 100.000 abitanti e 60.000 per un sistema che deve servire 400.000 cittadini. Quindi l'ingegnere che ha inventato questa applicazione spiega il funzionamento, cosa si può fare tramite di essa e quanto costa. A Udine quasi la metà delle segnalazioni riguarda la manutenzione delle strade, quasi il 12% la segnaletica, l'11% i rifiuti, fino a scendere al 0,7% di fastidi legati al malumore. La gestione tradizionale racconta Antonio Scaramuzzi, da dieci anni dirigente dei servizi informativi e telematici del comune di Udine, dunque spettatore del prima e del dopo. era spesso lenta e inefficiente. Adesso siamo tutti sulla pubblica piazza e tutti dobbiamo essere più responsabili e trasparenti. Siamo insomma obbligati a prenderci cura della città, pena il calio della fiducia, con grande pare soddisfazione. Come racconta la cittadina collaborativa Margherita Timeus, per me è stata una grande ed entusiasmante scoperta, su un campo di tennis del comune c'era la rete rotta, il paletto arrugginito, sono andata sul sito del comune ed è stato come fare un videogioco, vai con la freccia sulla mappa, spieghi cosa non va, se vuoi mandi anche le foto. In un paio di giorni la rete era riparata, io cittadina mi sono sentita importante, quindi cittadini e funzionari del comune approvano questo metodo. Per il riassunto bisogna seguire queste indicazioni. Come si è fatto a Udine per convolgere i cittadini nel buon andamento della vita e della collettività? A chi è ricorso il comune per rendere operativo il progetto? Tipologia delle segnalazioni e tracciabilità degli interventi? Reazioni ed aspettative degli amministratori del pubblico? 184 parole Il comune di Udine ha cominciato ad usare una piattaforma digitale che coinvolge maggiormente i cittadini nell'amministrazione quotidiana della città. Sul sito ogni cittadino ha la possibilità di segnalare problemi e guasti che possono esserci nella città, sulle quali il comune può immediatamente reagire sistemando tutto in pochi giorni. Dopo aver ricevuto la segnalazione, sul web si passa subito all'ufficio competente, si valuta, si approva e si interviene per risolvere il problema. Quindi ho descritto come si coinvolgono, come vengono coinvolti i cittadini. A chi è ricorso il comune lo vedremo adesso. Per mettere in atto questo progetto si è fatto riferimento al sistema informatico IPART che ha subito portato risultati stupefacenti. i cittadini vengono messi al centro e segnalano sul sito in modo abbastanza semplice e veloce ogni tipo di inconveniente, come ad esempio una buca sulla strada, un lampione rotto, strisce pedonali, sbiadite, eccetera. E dentro pochi giorni il comune sistema tutto. Quindi ho descritto anche quali sono le problematiche che vengono segnalate e quanto tempo ci mettono, quindi la tracciabilità per risolvere tutto. Adesso descrivo come è stato apprezzato o se è stato apprezzato da amministratori e dal pubblico. Quindi abbiamo visto il signore che lavorava da dieci anni che sarebbe l'amministrazione e il pubblico la cittadina. Quindi bisogna menzionare entrambi. Dirigenti comunali e cittadini promuovono l'iniziativa e il dirigente comunale Antonio Scaramuzzi ad esempio evidenzia il cambiamento in senso positivo in termini di efficienza e velocità del servizio paragonato agli anni precedenti. Anche la cittadina Margherita Timmius esprime un giudizio positivo sottolineando che questa piattaforma l'ha fatta sentire importante. Quindi abbiamo, secondo me, incluso tutto. Nel secondo caso bisogna scegliere uno di questi compiti. Numero uno, la bellezza artificiale, l'aiutino del chirurgo estetico. Un diritto sacrosanto per tutti. Mai accontentarsi. Otto donne europee su dieci sono convinte che i trattamenti estetici siano investimenti soddisfacenti. Sembra di sentire e risentire a un vecchio slogan pubblicitario che ha appena compiuto 40 anni. Perché io valgo? Soprattutto vale la mia bellezza, il mio aspetto fisico, la mia similgiovinezza da protrarre all'infinito. Dunque, benvengano le iniezioni di filler, il botox, i trattamenti laser, pratiche che... pratiche non più riservate ai super ricchi, alle star, ma da rendere accessibili a tutti. È il quadro che emerge da un importante studio internazionale condotto su circa 3.000 donne europee. Non a caso si intitola Face Value che valore ha la nostra faccia? Che valore le diamo? La parte più interessante verte proprio su questo. Fino a che punto siamo disposti ad arrivare per ottenere i trattamenti desiderati? Proprio mentre gli esperti di economia continuano a parlare dell'eccessione, il 29% delle donne che si sono fatte iniettare filler antirughe ammette che acquisterebbe prodotti alimentari meno cari pur di potersi permettere una nuova serie di iniezioni, mentre il 31% sarebbe disposto a cercarsi un secondo lavoro pur di avere il denaro necessario per migliorare il proprio aspetto fisico. In un blog in cui sono pubblicati i commenti sulle notizie riportate in questo testo, lei scrive le sue osservazioni dal suo punto di vista maschile o femminile. Quindi dovete dire cosa ne pensate di questi interventi chirurgici dal vostro punto di vista, dal punto di vista maschile e quello femminile. Secondo esempio, in un sito di internet, lei ha letto, presto arriveremo al limite dei record e sarà sempre più difficile battere i primati sulle piste di atletica o in piscina. Finora è sempre spuntato un nuovo super atleta in grado di polverizzare il record precedente, ma sarà sempre più difficile che arrivi un campione a farci emozionare. Valutando i risultati in 61 gare olimpiche di corsa e nuoto dal 1900 ad oggi, alcuni scienziati hanno verificato che i miglioramenti dei tempi stanno inesorabilmente rallentando e nel giro di 7 o 10 anni si dovrebbe raggiungere il limite invalicabile, molto prima di quanto calcolato da altri scienziati che avevano preannunciato la fine dei record fra 200 o addirittura 900 anni, il margine di miglioramento si assottiglia sempre di più. Forse solo nel nuoto, disciplina la quale siamo biologicamente inadatti, c'è ancora qualche possibilità di miglioramento, ma nei 100 metri la corsa appare molto difficile, gli allenamenti sono già studiate al minimo dettaglio, le piste di atletica sono quasi perfette, le scarpe a livelli pressoché ottimali, i record nascono ormai da un mix quasi impercettibile e imprevedibile di fattori, vento a favore, condizioni dell'atletica in quel preciso momento, altitudine. Che succederà quando i nuovi record verranno stabiliti col contagocce sempre più raramente e se fosse vero che i record saranno sempre più diradati, riuscirà il mondo dell'atletica a sopportare anni e magari decenni aspettando un nuovo atleta che batta un record stabilito 10, 20 o 30 anni prima sembra che ci attendono momenti di noia mortale nello sport. Quindi in questo caso parliamo dei record olimpici che saranno sempre più difficili da battere perché stiamo al limite quindi è difficile andare oltre e per questo lo sport diventerà più noioso. Molti utenti hanno pubblicato un loro commento e queste previsioni a queste previsioni anche lei vuole intervenire per esprimere le sue osservazioni a tal proposito quindi anche lei anche noi dobbiamo dire cosa ne pensiamo se lo sport sarà veramente così noioso eccetera. Io scelgo la numero 1 interventi chirurgici e ho scritto 212 parole il limite era tra 220 e 250 quindi sono un po' sotto però solitamente se siete a 100 o 120 forse non verrà considerata la prova ma 212 può andare bene potete magari scrivere una frase in più ad esempio se qui scrivo io personalmente sono contro gli interventi chirurgici ho già raggiunto i 220 vorrei partire dal presupposto che ogni essere umano è libero di fare quello che vuole con il proprio corpo oggi gli interventi estetici stanno diventando una normalità tra le donne si nota anche una tendenza ad ammettere e supportare l'intervento fatto rispetto a decenni fa in cui si tendeva a nascondere questi ritocchi personalmente non giudico negativamente questo atteggiamento ma penso che non abbia molto senso cercare di imitare l'aspetto di un'altra persona capisco che ogni donna vorrebbe migliorare parti del suo corpo che non le piacciono ma ho l'impressione che la maggior parte di esse faccia di tutto per assimiliare a Kim Kardashian quindi sto esprimendo il mio giudizio io penso che sia giusto fare i ritocchi però solo lì dove serve non bisogna ritoccare tutto il viso per cambiare totalmente aspetto magari se il naso è troppo lungo lo puoi accorciare le orecchie eccetera ma non puoi cambiare anche quello che è bello nel tuo viso questa è la mia opinione da un punto di vista prettamente maschile questi interventi sono visti positivamente agli uomini piacciono le donne belle che mettono in evidenza le loro forme questo però riguarda la dimensione prettamente sessuale dell'argomento qui ho dato il punto di vista maschile adesso quello femminile riguardo la prospettiva femminile ovviamente l'aspetto fisico più bello può contribuire a migliorare anche l'autostima della donna e farla sentire più a suo agio con il proprio corpo questo però non implica un miglioramento caratteriale o intellettuale le donne spesso descrivono questi interventi come investimenti ma questo trovo che sia l'aspetto più negativo della faccenda perché implica il raggiungimento dei tuoi obiettivi attraverso delle scorciatoie senza impegnarsi al massimo o crescere come persona ho dato la mia opinione l'opinione maschile è un punto di vista femminile in base a quello che io ho letto ho sentito eccetera perché ovviamente non sono una donna e questo è tutto riguardo a questa prova è ovviamente come avete notato la prima parte è quella più difficile perché richiede anche molto più tempo però bisogna cercare di non pensare troppo in questi casi e andare subito a scrivere quello che pensate perché rischiate di non farcela nei limiti di tempo prestabiliti comunque per avere un'idea migliore di questi esami io vi lascio anche la playlist CL4 C1 prova di produzione scritta ve la lascio in descrizione nei commenti del video potete andare lì per vedere altre prove degli altri anni e ovviamente se entrate nel mio canale tra i video o tra le playlist potete trovare anche altri esempi di ogni prova e ogni anno degli esami dalla 1 al C2 e celli CLS PLID eccetera grazie